I numeri sono impietosi, subiamo 10 gol nelle ultime 5 partite, non segniamo da 495. Che cosa sta accadendo a questa squadra, Raffa? Purtroppo è un periodo in cui non riusciamo più a fare i punti. Ci tenevamo tanto oggi a giocare, a fare i gol e non prenderlo. Purtroppo è andata male. Adesso penso che servono poche parole e dobbiamo cercare di allenarsi di più, cercare di migliorare perché è una stagione che è iniziata bellissima e dobbiamo finirla anche bene perché così non andiamo da nessuna parte. Per oltre un'ora quasi il Verona non pervenuto. Tu sei stato molto bravo a tenerlo in partita con almeno un paio di interventi. Poi il pallo ti ha aiutato su gli attaccanti del Cagliari, su altre situazioni pericolose e poi ci si è svegliati solo l'ultimo quarto d'ora, troppo poco. Sì, è vero. Noi sappiamo che in questo momento del campionato ci sono le squadre affamate come loro che hanno bisogno di punti e noi dobbiamo cercare di essere più affamati e ancora perché anche se nel nostro campionato abbiamo raggiunto un obiettivo ma noi tutti i giocatori e tutta la società vogliamo fare bene perché non è giusto con noi stessi e con tutti i tifosi cercare di non vincere più. Penso che l'obiettivo adesso è parlare poco, cercare di allenarsi bene perché abbiamo già domenica una partita difficile contro il Genova in casa e sappiamo che sarà molto molto difficile ma dobbiamo cercare di venire fuori con molta voglia, con molta cattiveria in campo e riprendere la strada giusta che era quella di qualche mese fa. Senti, tanto nervosismo. Nell'ultimo quarto d'ora Pinzani ha alzato cinque cartellini cosa che non è avvenuta per il resto della partita. Come lo spieghi? Poi c'è stata anche questa rissa nel finale se ci puoi dire qualcosa. No, penso che sulla rissa io sinceramente ho cercato di andare via dal campo subito perché lì ci sono dei giocatori nervosi, tanto nostri come loro ma la cosa più importante è cercare di riprendere per la prossima. Oggi siamo stati nella fine, abbiamo cercato il massimo e purtroppo è andata male ma dobbiamo riprendersi, come ho detto prima, servono poche parole e tanto allenamento e concentrarsi per la prossima che sarà molto più difficile. Senti, tanta delusione. Alla fine abbiamo visto solamente Marchigno e Maglietta quasi andare dai tifosi a lanciare la maglietta comunque a rendere loro grazie perché dopo la battosta di Genova a distanza di poco tempo si sono sobbarcati anche questo lungo viaggio. Come mai? Penso che tutti i tifosi che sono venuti qua hanno cercato di incentivare le squadre dall'inizio alla fine e adesso penso che dobbiamo rientrare a Verona perché la cosa più importante è cercare di mettersi già, di risparmiare. Se la porta non è andata tutta la squadra. Penso che non siamo andati tutti perché alla fine abbiamo salutato i tifosi siamo tornati dentro perché dobbiamo rientrare e ripartire ma i tifosi sanno che ci teniamo tanto e dobbiamo cercare di rifare questo periodo negativo con voglia, con cattiveria in campo e penso che è la cosa che dobbiamo fare adesso. Col Genova mancherà Romulo però oggi chi l'ha sostituito non ha fatto male in mezzo al campo qual è la tua visione? È vero, noi siamo una squadra che cerchiamo di fare il massimo in campo oggi purtroppo Roma è stato munito adesso vediamo cosa vuole il mister però l'atteggiamento delle squadre deve essere quello più cattivo più affamato perché dobbiamo cercare di trovare la strada giusta e quella è la cosa più importante in questo momento. Grazie 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 Grazie